4 marzo 1916. Nasce a Bologna Giorgio Bassani, ebreo e antifascista, entra in clandestinità durante il regime, trasferendosi da Ferrara a Firenze e poi a Roma. Esordisce nel 1940 con Una città di pianura. Il suo più grande successo è però senza dubbio Il giardino dei Finzi Contini, pubblicato nel 1962, in cui racconta la storia di una famiglia borghese ebrea di Ferrara durante la persecuzione razziale. Vittorio De Sica ne farà una trasposizione cinematografica che vincerà l'Oscar come miglior film straniero. Bassani muore a Roma il 13 aprile 2000.